La parola al consigliere Sollazzo, prego. Grazie Presidente. Nel 1979 un gruppo rock inglese, i Sex Pistols, li conoscete? Ve li ricordate? Ok. Realizzavano un disco intitolato The Great Rock'n'Roll Swindle, la grande truffa del rock'n'roll. E a distanza di quasi 40 anni, sulla base dello stesso tema, possiamo dare vita a una rivisitazione anche qua a Milano. La grande truffa della partecipazione. Eh sì, perché quando la partecipazione non è veritiera, potrebbe risuonare come una truffa. Se il termine è troppo forte, possiamo anche cambiarlo con un termine più raffinato alla francese, maquillage, di quello che già esiste. E quello che esiste, che comunque non ha attecchito e forse non attecchirà neanche nella nuova versione 2017 o 2.0. Perché il bilancio partecipativo non è una materia sulla quale possiamo scherzare troppo o prenderla con molta leggerezza. E come sappiamo, nella precedente consigliatura ci siamo arenati con il connubio Pisafia-Balzani, con dei progetti che purtroppo sono rimasti in parte anche irrisolti e dei vincitori dei bandi del 2015 ancora tendono risposte e conferme su delle lentezze sui lavori. Allora a questo punto viene da chiedersi perché è così difficile sovrapporre la vecchia progettualità con quella nuova. Che cos'è che blocca questo continuo processo di sviluppo di vari progetti e per quale convenienza soprattutto si fa questo tipo di gioco? Sembra di partire adesso nel 2017 per una nuova crociata con la paura di sbagliare semplicemente perché la prima non è andata a buon fine. Partiamo inoltre anche da un dato eclatante numerico che il budget si è praticamente dimezzato, cioè solo 500 mila euro a zona anziché un milione per un totale di 4 milioni e mezzo anziché 9 su tutta la totalità delle nuove municipalità. Il 31 maggio il nostro sindaco Sala dichiarava alla testata al giornale che non si tratta di un problema di bilancio perché si è deciso di fare meno progetti però dando la grazia che arriveremo a realizzare praticamente tutto. Anche questo tipo di impostazione, se vogliamo usare un parallelismo calcistico, è un po' come ricorrere al catenaccio. Non è sicuramente un'immagine comunque di ambizione o voglia comunque di spingersi a realizzare piani di bilancio sempre più ambiziosi. Sempre il sindaco Sala afferma che il bilancio pidino del 2015 ha avuto delle ombre. A parte il fatto che noi vorremmo avere anche chiaro in che cosa consistono queste ombre, ma allora a questo punto che senso ha quando un bilancio viene redatto ex novo dimezzarne totalmente il budget? Questo ancora non riusciamo a capirlo. Noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco che proviene dal mondo del business, quindi la logica ci spinge a pensare che probabilmente i suoi piani di bilancio fossero a ribasso e non a rialzo. Normalmente nel mondo del business si gioca a rialzo. Se paragoniamo Milano a un'altra capitale europea come Parigi, che ha circa 2 milioni di abitanti, quindi decisamente più grande di Milano ma con delle situazioni metropolitane abbastanza simili, possiamo constatare come nel primo anno di programmazione Parigi stanzia la bellezza di 20 milioni di euro contro i 9 milioni stanziati solamente da Milano. E nel secondo anno di programmazione Parigi rialza clamorosamente con 75 milioni, quindi quasi quadruplicando la cifra, a differenza di Milano che crolla miseramente con 4 milioni e mezzo. Volendo parlare in termini di percentuali che il sindaco apprezzerebbe molto, Milano crolla da un miserabile 0,2% a ancora un più mesto 0,1%. Sul piano formale invece le cose non sono andate molto meglio perché rispetto al 2015 ancora il progetto viene dato in gestione al Consorzio Empatia, di cui non ci esprimiamo nel merito, ma utilizza una piattaforma che difficilmente potrebbe arrivare anche alle vecchie generazioni che sono meno avvezze al linguaggio di internet. La fase di raccolta dei progetti, come sappiamo, comincia giusto tra un mese, a settembre, e la pubblicizzazione per la cittadinanza viene fatta solo attraverso affissioni e una pagina social del social Facebook che raggiunge neanche 3 mila utenti iscritti, detti comunemente in gergo laic. Un'autentica vergogna se pensiamo per una città come Milano che è all'interno di una regione fra le più popolate. Un consigliere di Milano che ha una popolarità media, pensate che riesce a raggiungere da solo già un 10 mila like, e questo è tutto dire. Si potrebbe addirittura pensare che potevamo usufruire della posta agevolata, come ha fatto l'altra consociata AMSA, per mandare le comunicazioni in modo omogeneo. E tra l'altro la stessa AMSA, vorrei ricordarvi, che ha 5 volte di più i like rispetto alla pagina del bilancio partecipativo, quindi viene da pensare che forse noi valiamo meno della monnezza in rapporto? Non si sa. Comunque concludo dicendo che possiamo avviare questo periodo di sperimentazione che usando semplicemente anche un termine cinematografico nasce come sequel già stanco di qualcosa che è stato avviato e purtroppo non ha trovato alcun tipo di sviluppo né sul piano della spontaneità né della partecipazione come le sue prime mosse a Porto Alegre. Quindi bagniamo una volta per tutte la parola partecipazione. Grazie. Ma la cosa che più stupisce è lo stato di realizzazione del bilancio partecipativo. Il collega Sollazzo ne ha parlato in articolo 21. Io vorrei fare delle considerazioni. In un'amministrazione seria, un Paese serio, in un contesto politico serio, nel momento in cui si fanno delle promesse ai cittadini, peraltro per una cifra veramente banale, perché il primo bilancio partecipativo erano 9 milioni di euro su oltre 4 miliardi di euro di bilancio. Quando a distanza di due anni e mezzo non si riescono a realizzare il 60 e il 70% delle opere che dovevano essere iniziate da oltre un anno, chiaramente si crea un problema di fondo. Ma è un problema oggettivo. L'assessore Lipparini va in giro per spiegare gli spostamenti da quest'anno al prossimo e così via. Sono dati che sono oggettivi e che chiaramente creano ancora più disillusione delle persone nella politica, perché nel momento in cui gli si dice ai cittadini, vi diamo due briciole che potete gestire come ritenete voi, perché di due briciole si tratta, ribesco un milione di euro a zona, rispetto a un bilancio, penso che al tempo fosse circa 4 miliardi di euro, il bilancio per parte ordinare, 3, 9, 4, stiamo parlando di due briciole e non vengono messi ed eseguite, quindi posti in essere quelle attività dopo un mese, perché questi sarebbero i tempi legittimi che le persone possono comprendere, per un mese, due mesi dalla chiusura del bando si crea un problema. Io non porro grandi questioni sulla partecipazione, dico semplicemente che questo progetto è fallito, è fallito e anche voi ne date atto nel momento in cui da 9 milioni decidete di stanziarne in quello di quest'anno 4. Non vi dico che dovete aumentare, ma quantomeno mantenere quel livello minimo che era stato assicurato all'inizio, ma soprattutto, al di là del mantenere quel livello minimo, vedere di realizzare quello che si promette. Infatti il problema più grosso della politica, al di là delle opere di ragioneria o delle buone attività professionali sulle quali nessuno ha nulla da dire, è proprio quello di riuscire a dare una risposta concreta, non semplicemente a parole, rispetto a quelle che sono le esigenze e soprattutto a quelle che sono le promesse fatte. Cosa che la politica ormai sempre più spesso tende ad evitare di fare.